Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo al messaggio di Windows Defender che blocca il vostro download oppure blocca l'installazione del programma anche se il programma non è minaccioso lo blocca lo stesso ovviamente questo è un video a scopo illustrativo quindi andiamo direttamente su Windows Defender protezione da virus e minacce scendi fino a giù fino a trovare gestisci impostazioni scendi fino a giù fino a trovare esclusione aggiungi o rimuovi esclusioni in questo caso aggiungi un'esclusione se tu stai installando un programma e Windows Defender te lo toglie di mezzo te lo rimuove aggiungi un'esclusione e aggiungi l'esclusione la cartella quindi vai a mettere la cartella del gioco che stai installando oppure un programma aggiungi un'esclusione file o processo o tipo file se in questo caso non dovesse funzionare possiamo sempre risolvere disattivando l'antivirus su Windows Firewall Windows Defender Firewall modifica no attiva disattiva Windows Defender Firewall disattiva Windows Defender Firewall scelta non consigliata disattiva Windows Defender Firewall e fai ok se non dovesse funzionare andiamo su impostazioni avanzate vai su azione proprietà stato Firewall metti disattivato profilo dominio profilo privato profilo pubblico e basta fai applica e fai ok poi non uscirà più quel messaggio che Windows Defender ha bloccato l'installazione o il download del programma quindi se non hai capito bene il tutorial riguarda la guida oppure commenta sotto al video se hai altri problemi ti aiuterò al tuo problema sempre su Windows Defender in alto a destra ci sono gli altri video su come disattivare per sempre Windows Defender e quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao